Benvenuti sul mio canale, oggi a pranzo faccio una finta frittura di calamari e zucchine che ho fatto a quadratini e messo nella frigidicia d'aria Venite a vedere 200 gradi per 6 minuti, ma già sono 3 Ok, si stanno già facendo Tipo delle chips L'ho messa lì così, tagliata a quadratini e l'ho messa lì dentro, mi sono scordato di registrare Adesso ho preso i miei calamari, ovviamente pesati, li faccio vedere Eccoli Ovviamente pesati, li metterò in frigidrice d'aria così, senza niente, senza farina, senza frangrattato, senza niente Voglio provare, magari sono buoni Eccoli, stanno sulla bilancia raga Perché li sto facendo, il king invece si sta facendo il sugo con il ragù No il sugo, si sta facendo il riso con il ragù Io no Potevo mangiare perché c'ho sia carne che il riso, pasta, tutto Però ho preferito quelli, voglio vedere come vengono senza farina e niente Dunque raga, i calamari sono buoni in tutti i modi, perché sulla piastra Dato un po' i minuti, l'ho aumentato perché io le voglio belle sbruciacchiate raga Vabbè, ditemi voi a chi non piacciono le cose sbruciacchiate Cioè, ieri a Beci, voi sono un po' troppo bruciate, quello sì Ma sbruciacchiato però Un pochino elevate, ora mettiamo in frigidrice il pesce Ecco qui Ok Mettiamo Una smossa così Proviamo Speriamo Vediamo Ok, qua quant'è? 206 minuti, proviamo così Intanto mettiamo poco poco sale Sulle zucchine Ok E aspettiamo Ovviamente dopo ho anche il pane che faccio tipo nella frigidrice d'aria con il tipo bruschettino Assaggiamo un po' una zucchina Buona Buona T'è raga, sento un profumino, andiamo ad aprire la frigidrice 3 minuti Vediamo Buoni raga, senti che profumo Sembra l'odore tipo proprio di calamari grigliati raga Non ho messo né farina né olio, niente Niente Ora ditemi se non vi aiuto con la dieta Cioè, ditemi se non vi aiuto con le ricette Adoro Qui raga Sono buonissimi, sento un odore buonissimo Adesso faccio il pane Ecco raga, come si presenta Adesso andiamo all'assaggio Ci vediamo su IG e su TikTok Ciao